insomma a volte ritornano dopo una vita presidente presidente del motoclub e dintorni adesso adesso si spera nel comitato regionale se potessi ritornare lasciai dal vicepresidente se mi voteranno il 21 di febbraio si saprà una vera e propria seconda giovinezza motociclista con sullo sfondo i cent'anni come va il movimento motociclistico a ponte d'era questo momento a parte il covid ma ci ritroviamo con 20 bambini che corrono in moto che hanno la licenza e che già l'anno scorso hanno vinto il campionato a squadre per il motoclub ponte d'era campionato a squadre nel campionato regionale di mini enduro quindi un ottimo auspicio e chissà che non porti alla costruzione di un campo da cross per bambini è una cosa che è impossibile ci si spera ma è una cosa impossibile perché bisognerebbe che il comune e cambiasse il piano regolatore e quella zona diventasse sportiva quindi poi deve essere lontano dall'abitato perché anche una volta aperto ammesso che ci si arrivi basta che uno brontoli perché c'è rumore l'usle viene il fine di giochi fine giochi a questa cosa degli amanti delle moto che non possano tollerare le vespe gli scuteristi in genere è vera o no se una parte vera perché il vero motociclista vuol vedere le ruote le ruote grandi e quando siamo sulla vespa le ruote non si vedano e quindi non ci sembra di essere su una moto quindi quadrofinia non è solo un film ora si partirà a marzo con la benedizione delle moto e delle vespe anche qui alla chiesa di san giusette si riapre l'anno 2021 grazie a tutti